Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, uova, amaretti, olio di semi di girasole, lievito per dolci vanigliato, sale e amaretto di saronno. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli amaretti e li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 7. mettere da parte. Senza lavare il boccale mettere lo zucchero e le uova. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungere la farina, la fecola, l'olio, il sale ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Aggiungere gli amaretti, l'amaretto di saronno e il lievito. ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Trasferire uno stampo da 22-24 centimetri ben imburrato. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta di amaretti. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.